Penso la canzone, faccio parte della sezione scialpinistica di Aosta, centro di addestramento alpino. Come vedete facciamo arrampicare i bambini e anche altre persone di tutte le età. Cerchiamo di trasmettere la nostra passione per la montagna. Nella cittadella si possono vedere tutti i vari stand, tutto quello che l'esercito pratica durante il loro addestramento. Vado a salutare Biella e l'ana di Biella di Saliano Vic.